un vecchio film degli anni settanta del secolo scorso era intitolato quando i dinosauri dominavano la terra una frase resa poi celebre da jurassic park beh forse varrebbe la pena di pensare ad un nuovo film ambientato questa volta nel paleozoico particolar modo nel carbonifero e lo potremmo intitolare quando le felci dominavano la terra ben ritrovati nell'orto botanico di napoli quest'oggi mi trovo nuovamente nel filiceto in quest'area umida e ombrosa in cui le grandi protagoniste sono le felci felci di cui parleremo nel video d'erno nell'episodio precedente in cui abbiamo parlato di muschi epatiche ed antoscerote abbiamo messo in evidenza che quelle embriofite primitive mancavano di veri tessuti di conduzione e che in quelle piante mancava anche la lignina l'evoluzione dei veri tessuti di conduzione così come l'evoluzione della lignina è stato il salto evolutivo successivo nella storia delle embriofite delle piante terrestri e infatti da adesso in poi quando parliamo di piante terrestri dotate di veri tessuti di conduzione e di lignina useremo un termine diverso sono tracheofite ossia le piante vascolari i tessuti di conduzione sono suddivisibili in xilema e floema lo xilema è formato da cellule che sono morte quando i tessuti sono conclusi e trasporta tipicamente l'acqua e i nutrienti sali minerali dalle radici verso le foglie mentre invece il floema che è formato invece da cellule vive trasporta la linfa elaborata dalle foglie verso tutto quanto il resto della piante inoltre nelle tracheofite a differenza delle embriofite riconosciamo per la prima volta la tipica struttura di una pianta suddivisa in radici fusto e foglie come abbiamo detto all'inizio se fossimo vissuti nel carbonifero tra 360 e 300 milioni di anni fa avremmo visto estese foreste di piante che a un primo sguardo potevano sembrare delle palme ma quelle piante erano tutt'altro che palme infatti la pianta alle mie spalle è una felce e nel carbonifero avremmo visto estese foreste formate principalmente da licopodi e felci come spesso succede il gruppo più antico delle tracheofite è uno di quei gruppi di piante che le persone largamente non conoscono infatti parleremo inizialmente dei licopodi i licopodi prendono il nome scientifico di licopodi opsida e sono un gruppo abbastanza negletto e con una bassa biodiversità infatti attualmente al mondo di questo gruppo ne sopravvivono appena 300 taxa eppure i licopodi hanno avuto una straordinaria importanza nel paleozoico nel devoniano infatti esisteva il genere drepanophicus i cui resti fossili sono ancora oggi uno strumento di straordinaria importanza per studiare l'evoluzione dei tessuti di conduzione di cui abbiamo parlato ma è nel carbonifero che queste piante raggiunsero il top della loro evoluzione con piante enormi del genere l'epidodendron che formavano delle vere proprie foreste ed è proprio a piante come queste che è ascrivibile la grande quantità di carbon fossile che caratterizza appunto il periodo carbonifero. Nei milioni di anni a seguire però i licopodi divennero un gruppo marginale e attualmente come abbiamo detto annoverano una bassa biodiversità che si riscontra per lo più in un unico genere che è il genere isoetes. Isoetes è un genere di piccoli licopodi che troviamo principalmente in ambienti molto umidi o paludosi. Una caratteristica interessante di questi licopodi è che sono i primi in linea evolutiva ad avere evoluto il metabolismo CAM che è un particolare metabolismo legato alla fase luce indipendente della fotosintesi clorofiliana. Questo metabolismo di solito lo riscontriamo in piante di ambienti completamente diversi, le piante succulente quindi piante di ambienti molto aridi. Invece nelle piante acquatiche o semi acquatiche come isoetes il metabolismo CAM si è evoluto per vincere la competizione con le altre piante nei confronti della bassa disponibilità dell'anidride carbonica. Esistono poi degli altri licopodi di taglia enormemente più piccola rispetto ai loro progenitori del carbonifero, ma questi licopodi sono forse i più facili da poter vedere in natura. ed eccoci alla presenza di una piantina molto interessante. Questa che sembra essere poco più che un muschio appressata alla parete rocciosa è selaginella denticulata. Selaginella denticulata è uno dei rappresentanti più facili da vedere in campo del gruppo dei licopodi. Infatti questa è una felce, tra virgolette, perché i licopodi non sono delle vere felci ma sono un gruppo strettamente imparentato con le felci ed è quindi un qualcosa che noi potremmo definire come un fossile vivente. Questa espressione di largo uso comune, a cui invece andrebbe preferita l'espressione specie braditelica, ossia una specie che si evolve lentamente, perché sostanzialmente questo tipo di pianta è molto simile ai suoi fossili che risalgono a svariati milioni di anni fa. Quindi sostanzialmente l'evoluzione non ha modificato più di tanto l'aspetto di questa pianta. A vederla sembra veramente poco più che un muschio, non sembra essere una felce. Bisogna guardare da vicino per riconoscere delle vere foglie, delle strutture, anche se ha tante caratteristiche micromorfologiche che fanno capire che si tratta di una pianta appartenente a un gruppo veramente molto antico. La si può trovare abbastanza facilmente, bisogna soltanto stare lì fermi ad osservare un po' meglio e non soltanto a guardare i muri, e la si può trovare o di questo colore verde brillante oppure quando cresce in zone un po' più soleggiate non è difficile incontrarla di un bel colore rosso acceso. Ed ecco che, lasciati i licopodi, possiamo parlare delle vere felci. Le felci sono un gruppo molto diversificato ed evoluto sulla terra, infatti attualmente contano più di 11.000 taxa e sono ascrivibili al termine scientifico di polipodiopsida. Questo gruppo di piante si è evoluto anch'esso nel paleozoico, in particolar modo nel siluriano 430 milioni di anni fa e, come i licopodi, anche le felci hanno avuto il top della loro evoluzione nel carbonifero. Ma a differenza dei licopodi che sono divenuti rari, le felci hanno invece mantenuto sempre una discreta biodiversità e attualmente alcune specie sono anche di grande successo evolutivo. Come nelle briofite, anche nelle felci c'è un'alternanza di generazioni, però con una differenza fondamentale. Mentre nelle briofite la generazione dominante era quella gametofitica, dalle felci in poi la generazione dominante nelle piante sarà sempre quella sporofitica. Il gametofito delle felci è a vita libera, ma è veramente difficilissimo vederlo perché è di dimensioni piccolissime e come forma complessiva ricorda un po' una sorta di coricino stilizzato oppure potrebbe ricordare un po' la forma di un'epatica. Come nei muschi, anche nelle felci gli spermatozoi hanno bisogno di nuotare liberamente nell'acqua per poter raggiungere le cellule uovo. Questa è un po' una limitazione evolutiva che fa sì che le felci, così come i muschi, le ritroviamo principalmente in ambienti molto umidi perché tutto ciò è legato al modo in cui queste piante si riproducono. La maggior parte delle felci che tutti noi conosciamo sono piante di piccole dimensioni, ma così come avveniva nei dicopodi, per il passato sono esistite delle felci arbore di enorme dimensioni. Le felci arbore però esistono ancora, tuttavia sono limitate agli ambienti tropicali. L'Orto Botanico di Napoli ospita una preziosa collezione di felci arbore, in particolar modo degli esemplari bellissimi dei generi Dixonia e Chatea. Nelle felci arboree è molto facile riconoscere bene queste grandissime foglie composte che nelle felci prendono il nome di fronde. Inoltre quando queste foglie si staccano, cadono in maturità, è facile riconoscere le cicatrici lasciate sul fusto che rappresentano proprio i segni dei tessuti di conduzione. Nelle felci lo sviluppo delle fronde parte sempre a partire da una struttura avvolta su se stessa che prende il nome di pastorale. Questa struttura ricorda un po' come forma complessiva la spirotromba delle farfalle. In realtà all'interno del pastorale sono contenute già tutte quante le cellule che formeranno le fronde. Un'altra caratteristica peculiare delle felci è la presenza nella pagina inferiore delle foglioline di strutture che normalmente le persone non sanno a che cosa servono. Questi puntini che voi vedete si chiamano sori e i sori producono le spore. Essendo la felce adulta uno sporofito, come abbiamo detto, le spore sono delle cellule haploidi che vengono prodotte dalla pianta e rilasciate in natura e dalle singole spore poi si originano i gametofiti. Come avviene anche in altre tipologie di piante, le felci sono in grado di riprodursi anche per via cosiddetta agamica, quindi una riproduzione clonale che non coinvolge né le spore e né i gameti. La pianta che c'è qui a fianco a me si chiama Asplenium bulbiferum ed è una felce. Se noi giriamo le sue foglie vediamo la presenza di sori che si riescono più o meno a distinguere nelle foglioline, ma se giriamo sulla pagina invece superiore riconosciamo questi curiosi bulbilli. Infatti questi non sono altro che una maniera in cui la pianta si riproduce attraverso dei cloni. Dai bulbilli si staccano e si forma un clone, quindi una pianta genericamente identica che fa andare avanti la riproduzione di questo tipo particolare di felce. Noi siamo abituati a riconoscere le felci con questa tipologia di fronde, ma le felci hanno una variabilità morfologica enorme. Infatti guardate le piante qui ai miei piedi e sicuramente pochi di voi li riconoscerebbero come piante del tutto simili alle felci. Questi sono equiseti e sono ben riconoscibili dalla presenza di fusti sterili come questo e fusti invece fertili sulla cui sommità sono presenti queste strutture che sono chiamate strobili e che producono le spore come avviene nei soli delle felci. Ed ecco un'altra pianta molto interessante. Anche se all'apparenza potrebbe non dirsi, questa è una felce, una felce del genere Platycerium. La particolarità di questa pianta è che è una pianta epifita perché la vedete sul tronco, morto in questo caso, di una vecchia felce arborea. Ma la pianta non è un parassita, cresce soltanto attaccata al tronco come sostegno per poter raggiungere la luce. Altra cosa interessante di questa felce è che presenta una spiccata eterofilia, ossia due tipi diversi di foglie. Infatti si distinguono queste foglie a forma di cuore quasi circolari, che sono quelle con cui la pianta si attacca al fusto e formano anche una sorta di coppa in cui si va ad accumulare l'acqua e le sostanze nutrienti che provengono dal materiale in decomposizione lungo l'albero. E poi ci sono le vere foglie che portano anche i soli. Ci sono poi delle felci che sono quasi irriconoscibili come tali. Guardate ad esempio in questa vasca piena d'acqua. Tutta la pianta che vedete si chiama Azolla filiculoides ed è a tutti gli effetti una felce con tutte le strutture tipiche di questo tipo di piante. Questa è una pianta che può avere un impatto particolare perché si tratta di una specie aliena potenzialmente invasiva. Questa pianta proviene originariamente dal continente americano però si è diffusa in molte zone del mondo, Europa compresa. La chiave del suo successo sta nel fatto che questa pianta ha una intima simbiosi con un cianobatterio, Anabena azolle. Questo cianobatterio è capace di fissare l'azoto atmosferico e quindi dà quel quid in più, quel boost nella competizione a questo tipo di pianta che può creare delle difficoltà negli ecosistemi acquatici. L'Italia è una nazione pteridodiversa, oltre ad essere brio-diversa e più genericamente biodiversa. Questo perché in Italia abbiamo un grande numero di felci, se ne contano circa 130 taxa, alcuni dei quali raggiungono una grande importanza generale o in alcuni casi una grande importanza dal punto di vista conservazionistico. Ed ecco un esempio di felce piuttosto comune ma che può assumere un grande interesse dal punto di vista naturalistico. Questo è capel venere, adiantum capillus veneris. È una felce comune che si può trovare persino nei muri umidi all'interno delle nostre città, ma può creare degli habitat di grande importanza. Infatti questa felce, insieme ad alcuni tipi particolari di muschi, contribuisce a creare un habitat a priorità di conservazione che è quello delle sorgenti pietrificanti, che sono degli ambienti umidi, particolari presenti nei valloni ombrosi, soprattutto nel centro-sud della nostra penisola, in cui crescono un numero di specie rare e in cui si hanno delle condizioni climatiche e ambientali molto particolari. E proprio qui nell'orto botanico di Napoli è presente una collezione di felci particolari. Si tratta di felci a distribuzione principalmente tropicale, che però dalle nostre parti sono invece testimoni di una flora molto più antica, una flora che risale al terziario, quando il clima nel Mediterraneo era molto più umido dell'attuale. Qui ne abbiamo un esempio. Questa è Pteris vittata, che insieme a Pteris cretica, una felce apparentemente molto simile, forma un consorzio di piante che attualmente possiamo ritrovare allo stato naturale soltanto in dei valloni molto umidi e particolari, dove si crea un microclima tale che è simile a quello del terziario, in cui queste piante si sono sviluppate e successivamente diffuse all'interno del bacino del Mediterraneo. Abbiamo delle testimonianze storiche da parte ad esempio di Michele Tenore, il primo direttore dell'orto botanico di Napoli, che queste piante erano presenti in maniera abbastanza più cospicua anche in giro per la città di Napoli, come ad esempio succede ancora oggi per il Capo del Venere. Attualmente queste piante sono poco diffuse in città, se ne trovano degli sparuti esemplari proprio a testimonianza di quel clima quasi un po' tropicale appunto della città di Napoli che ha permesso a queste piante di sopravvivere in delle piccole sacche. Discorso molto simile si applica a quest'altra splendida felce che c'è alle mie spalle. Questa è Woodwardia radicans ed è un'altra di quelle felci relitte del terziario che sopravvivono nel centro-sud Italia. In particolar modo questa pianta allo stato spontaneo si può trovare ancora in dei punti molto remoti dell'isola di Ischia qui in Campania e poi negli stessi valloni umidi e ombrosi in cui sopravvivono Pteris cretica e Pteris vittata. Poi la pianta ricompare anche in ambienti similari in Calabria e in Sicilia. Questa è una di quelle piante anche molto protette da diverse convenzioni di enorme ed importante rilievo conservazionistico. non tutte le felci sono tipiche di luoghi umidi e ombrosi oppure sono delle piante di grande importanza conservazionistica. Alcune vivono in ambienti molto diversi come ad esempio questa. Questa qua davanti a me è una felce. Si chiama Pteridium aquilinum, la felce aquilina e potete vedere tutto alle mie spalle una distesa di terreno bruciato da cui spuntano questi lunghi germogli di felce aquilina. La felce aquilina è una felce di grande successo evolutivo perché ha tutta una serie di caratteristiche fisiologiche che le permettono di essere una grande conquistatrice in questi ambienti molto disturbati come quello che mi circonda. In particolar modo è dotata di potenti rizomi sotterranei che ogni anno fanno sì che la pianta ricacci e successivamente come altre piante l'inverno successivo la parte della vegetazione muore. Vedete queste sono delle foglie dell'anno precedente e inoltre ha delle spore particolarmente leggere e resistenti alla disidratazione che le permettono quindi di colonizzare questi ambienti che sono indubbiamente meno umidi e ben diversi rispetto ai valloni ombrosi dove abbiamo visto che le felci tendono a essere un elemento di grande bellezza del paesaggio. Quest'oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo sulle felci, piante di grandissimo fascino, che popolano quest'angolo umido e ombroso dell'orto botanico di Napoli. Grazie ai loro tessuti di conduzione e all'evoluzione della lignina le felci hanno dominato il nostro pianeta per molti milioni di anni e ancora oggi sono un gruppo importante. Anche se hanno una limitazione la maggior parte di loro è vincolata ad ambienti molto umidi come quello che mi circonda e il nostro prossimo step evolutivo sarà proprio allontanarci da questi ambienti umidi per seguire il percorso dell'evoluzione delle piante. Il nostro prossimo episodio ci porterà ad abbandonare le felci e il filiceto e spostarci in ambienti completamente diversi. Infatti il prossimo episodio sarà dedicato a delle piante completamente diverse rispetto alle felci che sono quelle che si trovano esattamente alle mie spalle in questo momento. Sono le piante che per prime hanno evoluto i semi nudi. Leggimlo sperma.